I sapori della Campania per due settimane al Caffè de Paris di Monte Carlo, lo chef stellato Peppe aversa in cucina per far degustare i prodotti campani. Venduti 1500 pasti della nostra regione in due giorni. E' entusiasta il segretario di Stato del Principato di Monaco, Jacques Boisson, che ha affermato il Principato deve essere la casa della Campania. Serata di gala nel centro più prestigioso del Principato di fronte ai famosissimi Casinò e Hotel de Paris. Sì, promosso dall'assessorato allo sviluppo economico e le attività produttive della regione Campania, direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive. 25 aziende, selezionate attraverso uno specifico bando della regione Campania, hanno esposto e presentato agli addetti ai lavori e ai visitatori i loro prodotti presso il Salon Belieu del Caffè de Paris. Nelle parole dell'assessore regionale Fulvio Martuscello, il senso dell'iniziativa. Sì, la regione Campania ha scelto di partecipare a una fiera qui in Francia, a Monte Carlo, perché ritiene quest'area strategica, incontri B2B, abbiamo messo insieme chi vuole venire a investire in Campania, con l'imprenditore di Campania che vogliono esportare le proprie attività, facciamo conoscere le nostre eccellenze, riteniamo che il settore del food e del beverage siano elementi straordinari da far conoscere e da portare sui mercati internazionali. Siamo convinti e consapevoli che questa è una straordinaria ricchezza della Campania e che con questa ricchezza possiamo davvero portare fuori il sud dalla crisi economica.